Una bella festa qui oggi, una festa di integrazione e di accoglienza? Sì, certo. È quello che noi stiamo cercando con la Caritas, perché è importante integrarci. Come già dicevo prima, quando ho parlato un attimo al microfono, diceva che siamo tutti figli di Dio, dobbiamo camminare insieme. Quindi, bando a tutte le diversità, a tutte le cose, cerchiamo ognuno di noi quello che unisce l'altro e quindi camminiamo insieme. Se cerchiamo le chiose che ci dividono, non cammineremo mai insieme. Invece, se cerchiamo in ognuno di noi, in ognuno dell'altro, c'è sempre qualcosa di buono, qualcosa che è in comune a noi. Quindi, se noi insieme camminiamo, risolviamo il problema. Questa è un'iniziativa che rientra in un progetto più ampio, che va a toccare diversi comuni del Canavesi. Abbiamo fatto un pavolo senza confini, in cui fanno parte diverse associazioni, alcune Caritas, alcune tipo Radiresh, e tante altre associazioni. Così vogliamo proprio insieme proporre sempre qualcosa di nuovo per integrarci. in un progetto più ampio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.